Oggi abbiamo presentato un nuovo sito per la Padania Acque. Riteniamo che Padania Acque, in quanto società pubblica, debba avvicinarsi sempre di più ai cittadini e quindi abbiamo cercato di utilizzare le nuove tecnologie per arrivare nelle case di tutti. Abbiamo presentato due cose. La prima è la realizzazione di un nuovo sito graficamente migliore, ma poi soprattutto con diverse applicazioni, tra le quali mi viene in mente quella per andare a verificare la qualità dell'acqua, andando a vedere in ogni fontanella della città e della provincia, da dove vengono effettuati i prelievi dell'ASL, qual è la qualità dell'acqua. Quindi ci saranno le analisi aggiornate di tutti i punti di prelievo di tutta la città. Poi, per esempio, c'è la possibilità di andare a verificare le proprie bollette, se sono state pagate, se non sono state pagate, come sono state conteggiate. Poi c'è la possibilità di andare a vedere anche i lavori in corso. E questo, e qui ci spostiamo nell'app, l'app, come sapete, è un'applicazione che si scarica dal telefono, è completamente gratuita e ha delle funzioni, oltre ad avere anche lì le analisi dell'acqua, ma ha la possibilità di andare a segnalare i guasti. Un cittadino che passa per la strada e vede un guasto di un tombino, piuttosto che una perdita d'acqua, può farle la fotografia, viene geolocalizzato, può inviarla a noi e subito dopo va nel sistema e viene allertato il sistema d'emergenza. Ma c'è di più, nel senso che il cittadino poi riceve anche una risposta da parte degli uffici per dire a che punto è la lavorazione. Noi veramente vogliamo avere un rapporto diretto. Tu pensa che nei prossimi mesi attueremo il vero e proprio sportello automatico, il sportello online, ovvero da casa tu potrai fare qualsiasi pratica. E chi non ce la farà può chiamare il nostro call center e attraverso l'aiuto del nostro call center può fare le pratiche online. Quindi mi immagino persone che non abbiano molto dimestichezza con la tecnologia lo possono fare telefonicamente. Questa è una bellissima cosa. E poi come dicevo appunto c'è tutta una serie di informazioni, per esempio la chiusura delle strade oppure la chiusura delle condotte. Per esempio in un paese stanno facendo degli spurghi, stanno facendo dei lavori, ti viene indicato quando ci saranno questi lavori. E in futuro ci sarà la possibilità, chi si registra, di avere un sms, di avere un messaggio per dire guarda che da domani, dalle alle, chiuderemo l'acqua. Questo è uno dei primi passi della società. Come vi ho già detto abbiamo iniziato a rivedere tutto il sistema del call center. Era una cosa che purtroppo funzionava così e così, quella dei rapporti telefonici, mentre invece vogliamo dare ai cittadini proprio un servizio di presenza sul territorio. Grazie. 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 Grazie.